RISPONDA, RISPONDA, BANITO Clipper e Tigliani L'ANIMA DEL I MORTACCI TUA Holyfans con Manuel Arcuri Allora, sentiamo Tutubi che hai rischiato la vita Ah, io ho fatto proprio una delle cose più stupide della mia vita Io potevo letteralmente non essere qui quest'oggi Me so svegliato, proprio che apro gli occhi botte forti sulla porta di camera mia Io vivo da solo, no? Entro, vedo una figura in penombra Appena sveglio, riconosco dopo due o tre secondi che è il proprietario di casa Madonna Che mi ha imboccato in casa alle undici e mezza e mi ha svegliato, no? È illegale sta cosa, tra l'altro Considerando che la sera prima Ho lasciato aperto l'acqua Ho lasciato aperto il gas No, ma questo è scemo Ma Simone è proprio Simone è la persona più distratta Uno scrive Rubino Simone è la persona più distratta che io abbia mai conosciuto Una volta addirittura Oddio, mi sa cosa ho raccontato Una volta, mi ricordo quando abitavo col cecchino Lui si dimenticò la madre dentro casa Questa volta fu clamorato ha fatto troppo ride Perché mi ricordo che la mamma chiamò chiamò Ludovica il cecchino perché Simone è abitato vicino a me Chiamò la mamma e fa Oh, ma sono rimasto chiuso dentro casa Ma come? E Simone è andato via Ero proprio distratto alle volte Cioè, come professionista streamer Cioè, grande Però Madonna Nel gas acceso Madonna Ma te stai fuori di testa Inondata di gas Oh, Cristo Ma hanno detto Uno ti poteva esplode casa Due potevi morire asfissiato Meno male che stavi dall'altra parte della casa Ma non era arrivato Ma poi d'inverno con le finestre chiuse e tutto Esatto Per fortuna io mi barrico quando vado a dormire quindi il gas non aveva raggiunto la camera da letto però tutto il resto della casa sì Eh, perché tu teni la porta aperta delle camera è capace oppure che andavi tipo in toma che te classificavi Mi sono sentito veramente stupido e ovviamente ho fatto una cosa molto stupida però il proprietario mi ha detto Io pensavo che eri morto porcogione inizia la bestemmia Ma te credo Mi fanno robbio Mi fanno robbio la morte che divento devastante e t'ammazzo Mi sono svegliato con questa bella cosa poi ho sbattuto la testa allo spigolo del pianoforte poi prima settando la live ho sbattuto la testa a questo tavolo e non so oggi che sta a succedere ho paure Eh, basta Bubulus Vedi senza Bubulus come se sta allegri guarda guarda senza Bubulus guarda senza Bubulus io metodo all'ippica Ale Bruno io dai Ale Bruno porco all'ippica oddio beh raga io chi è che mi ha scritto ragazzi domani ho scritto lì fans clac domani clac almeno domani clac preparate dieci sub domani no oggi poi quando andrò a Milano vi farò conoscere un'altra ragazza d'HollyFans poi ho contattato la ragazza che mi avete detto voi per un'intervista se mi rispondesse e c'è sta c'è sta è bello conosce altri lati secondo me basta pippe basta pippe poi pure problemi con la live è una di quelle giornate che mi hai appena vito ribarrigate in casa e uccido ma ci pensi domani eh sì tipo in che senso hai messo qualcosa mi sono fatto un couscous alle due di notte couscous pronto alle erbe fini del Lidl e per farlo Simone si mangia la merda una volta Simone mi ha dato il pollo non so che tuo cazzo ha preso vi giuro mi ha fatto sentire male sono male due giorni ma lui si mangia tutto c'è proprio una merda riscaldare 200 ml d'acqua farlo bollire hai tolto l'acqua e lasciato la fiamma ho tolto l'acqua no la fiamma si era spenta ma non mi sono accorto del gas che continuava a fuoriuscire non l'avevi chiuso bene non l'avevi chiuso il cosettino che poi mi ha spiegato questi soppecchi questi incianna sicura questi mori capito mi ha proprio spiegato la valvola di sicurezza alcuni invece hanno la sicurezza quelli nuovi sì quelli nuovi hanno la valvola di sicurezza e quindi niente vivo per miracolo ora sarò più attento madonna sì ma porca troia a meno che a te non faccia impressione vedere un trailer del genere per Reddit prossimo avrebbero fatto dubbi final destination porca se non ti impressiona hai fatto tutto con il trailer la musica eh amici non lo so infatti un altro problema grave saranno le bollette eh mo sì c'avrò sta bolletta forse comunque veniva morita per una notte di gas cioè quanto poco sta una notte di gas acceso dalle due comunque la persona che vi porterò domani la ragazza che fa OnlyFans quella dark è proprio lei Elinyat che è in chat molto dark un OnlyFans è dark oscura quasi a dire vampira alle undici praticamente eh sì nove ore beh 2k eh vabbè costa meno del sabato sera medio di rubino sicuramente orca puttana ma che è successo ma guarda Dave te la rispondo così io non pago te la dico così Dave io non pago ok eh vabbè vabbè ma va bene ci sta ci sta risponda bavida clip rettiliani l'anima dell'imortacci tua ah ah